Oggi abbiamo fatto la Spezza, la Special Olympics, presente nel comune di Lerici, in questa bellissima cornice, per la prima gara di pesca sportiva. Un'iniziativa in collaborazione con l'SD Il Gabbiano, che ci ha ospitato, ha messo a disposizione le barche. I ragazzi sono felicissimi, hanno pescato veramente tanti pesci all'insegna dell'inclusione. Quindi un ringraziamento a tutti i collaboratori e naturalmente un invito per il prossimo anno a far sì che si possa ripetere questa splendida iniziativa. Eccoci in una splendida cornice alericina, che questa mattina abbiamo avuto l'orgoglio di ospitare i ragazzi dell'ANFAS e dello Special Olympics, che si sono dedicati alla pesca e hanno pescato, sono stati felicissimi e noi siamo molto orgogliosi di questa giornata, in cui abbiamo potuto far vedere che la pesca è aperta a tutti all'insegna dell'inclusività.